Affilate le armi, titoliamo questa sera per la nostra puntata di Viceversa. Non parliamo di sicurezza o cose affine, parliamo di una cosa un po' più rilassante ma allo stesso tempo impegnativa che è lo sport. Le armi perché? Perché qui con noi c'è il presidente della scherma dell'ASU, Alessandro Nutta. Buonasera Presidente. Buonasera. Un gradito ritorno, l'altra volta era venuto a parlare di ginnastica ritmica, questa volta invece è il suo pane, perché stiamo parlando di scherma. Allora, cosa presentiamo? Ieri c'è stata una conferenza stampa, abbiamo dedicato anche un servizio al telegiornale di ieri, dove si è parlato di quello che sarà l'appuntamento sportivo per definizione del prossimo fine settimana. Fine settimana, esattamente. Cosa succede? È il secondo anno che l'ASU organizza il secondo torneo Alpe Adria, è indirizzato agli schermitori delle discipline della spada e del Fioretto, Under 14, cioè categorie Gran Premio giovanissime. Quindi giovani proprio, giovani vergulti. Giovani sì, perché volevamo che i nostri atleti e gli atleti dei paesi vicini cominciassero a confrontarci con delle attività prettamente agonistiche e quindi volevamo che approcciassero delle gare che interessassero un po' anche i paesi vicini al nostro. Andiamo un po' sull'agonismo, perché fuori onda, stavamo un po' discutendo della puntata di questa sera, mi ha, non impressionato, però mi ha lasciato un po' di curiosità l'aspetto agonistico dei giovani friulani. Adesso non facciamo un ragionamento, diciamo, etnico, diciamo così, però c'è una riflessione da fare, che è carina, secondo me. Soprattutto per quel che riguarda l'ASU, si parlava proprio in società qualche giorno fa, sul fatto che, essendo la preparazione che viene data ai nostri atleti fortemente tecnica, soprattutto all'inizio della loro esperienza agonistica, in questo senso vengono delle volte battuti o comunque trovano difficoltà perché magari altri atleti puntano più sull'agonismo e quando l'età sono tra gli 8 e i 12 anni, l'agonismo e la vigoria hanno il sopravvento rispetto alla tecnica. Diciamo che una certa aggressività a quel tipo di età sopperisce a delle lacune tecniche che invece noi cerchiamo di curare in particolar modo. E questa è una caratteristica dell'Associazione Sportiva Udinese proprio. Società nobile dalla quale è nata anche l'Udinese, è la sezione calcio. Un po' di anni fa, esatto. Giusto un po' di anni fa. Un centinaio di anni fa. Però appunto noi abbiamo voluto organizzare questa gara e ne organizziamo magari anche altre a livello nazionale per consentire ai nostri atleti di misurarsi anche con una gara internazionale. Certo, ci vuole il prospetto internazionale, insomma questo tipo di dimensione. Accettano il sacrificio, perché allora ok prenderle dagli 8 ai 12 anni e tu studi un po' la tecnica, può essere metafora di vita anche questo, però mi sacrifico, ce la faccio. Ma resistono un po', come funziona per questi ragazzi? Beh, appunto queste gare servono anche perché magari alcuni atleti che magari in una gara nazionale non procedono molto nelle loro gare, qui possono misurarsi magari con un'esperienza diversa che gli possa anche fare vincere qualche incontro o comunque capire che quello che gli viene insegnato può servirgli per vincere poi in fasi successive della propria crescita. Allora, a proposito di sacrificio, poi proseguiremo il nostro discorso col presidente Nutta, la madrina della manifestazione è Stefania Vergente, che è un atleta che ha raccolto parecchi successi nel corso della sua Corriere Agonistica e vestendo la casacca dell'Asu di Udine. Ieri è stata intervistata in occasione della presentazione della manifestazione e ha detto delle cose significative proprio sul sacrificio, sul dedicare del tempo allo sport e all'attività agonistica quando gli altri si divertivano, insomma facevano tutt'altro. Sentiamo cosa ha detto e dopo torniamo col presidente e facciamo una riflessione anche sulle parole di Stefania Vergente. Andiamo a regia con l'intervista. Stefania Vergente, quest'anno madrina del torneo internazionale Alpe Adria organizzato dall'Asu. Che cosa rappresenta per lei che all'Asu è cresciuta questa scelta della società di chiederle di rappresentarle in qualche maniera in questa occasione? Beh, sicuramente è un motivo di vanto e di orgoglio perché comunque vuol dire che sono rimasta nel cuore di questa associazione sportiva, di questa sezione scherma che appunto mi ha cresciuta in tutti i sensi sia dal punto di vista sportivo che come persona sin da quando avevo sette anni di età. Quindi sicuramente mi fa molto piacere cercare di rappresentare l'Asu anche in questa manifestazione. Rispetto a questa disciplina? Beh, sicuramente di provare ad avvicinarsi a questo sport, a questa disciplina perché regala molto, regala molto sia in termini di autostima che a livello fisico, di concentrazione. ed è uno sport che appunto ti consente di focalizzarti sempre sugli obiettivi. Quindi aiuta sia a livello sportivo che soprattutto nella vita poi vera e propria, al di là delle pedane e anche nello studio. Sicuramente, sicuramente. Tutto parte comunque, come ha detto lei bene, prima dalla passione perché all'inizio è un gioco e finché ci si diverte a fare le cose sicuramente si avranno dei grandi risultati. Dopodiché è uno sport che richiede sacrificio perché le ore di allenamento sono tanti e quindi si sacrifica anche la vita privata, le amicizie. Per esempio io ho 16-18 anni, ero comunque sempre in palestra o fuori per i ritiri. Però tutte le soddisfazioni che poi si hanno con i risultati, quindi passione, costanza e voglia. Voglia di arrivare, voglia di mettere in pratica quello che si è imparato e di ottenere i risultati. Che ripeto, vanno benissimo in pedana e una volta fuori dalla pedana e dallo sport sono molto utili anche nella vita di ognuno di noi. Presidente, 16-18 anni, sempre in palestra e mai a spasso, in giro per i bar. È dura, diciamo la verità, senza fare i puristi. No, no, è vero, è difficile. Nel caso specifico di Stefania, io l'ho seguita perché la accompagnavo anche alle gare in quel periodo e devo dire che i carichi di allenamento fra i 16 e i 18 anni sono importanti nella scheda. Se dovessimo fare una scaletta oraria, di quanto è necessario allenarsi per essere a un così alto livello, a livello internazionale. Tenendo conto che, appunto, stiamo parlando di un atleta che in quegli anni vinceva campionati italiani quando la concorrenza in Italia nel fioretto femminile era già elevatissima. Stiamo parlando di momenti in cui Stefania faceva i campionati italiani con la Vezzali, con la Trillini, con tutte le olimpioniche e quindi i carichi di allenamento... E anche Edi, anche lei era fiorettista. Esattamente, erano carichi di lavoro importanti. È chiaro che tutto il pomeriggio, cinque giorni, sei, anche sette alla settimana, erano dedicati all'attività sportiva, che poteva essere anche di un paio di sessioni di allenamento, considerando poi anche la preparazione fisica che ha sempre più importanza, magari in quel periodo forse un po' di meno, però... Comunque, vuol dire che... E con tutto il resto come si faceva? Dico, escludiamo parte divertimento che la bypassi per forza, no? Questo temo sia un po' per tutti i sport ad altri livello. Se uno vuole mantenere anche una continuità nello studio, cosa che Stefania ha fatto e molti dei nostri atleti cercano di fare, e noi spingiamo gli atleti per fare, devi imparare a organizzarti la giornata. E questo è un aspetto positivo, perché alla fine riesci effettivamente a fare molte più cose di quelle che faresti se tu non avessi un impegno costante e continuo, Se tu hai la pressione dell'appuntamento, poi ti organizzi, no? Ho visto nel tempo che molti di questi atleti imparano a organizzarsi e a sfruttare molto meglio tutti gli orari che hanno a disposizione. Noi stiamo cercando, all'Aso, avendo una struttura un po' adesso un po' più... Sì, se ne abbiamo parlato già la volta scorsa, adesso c'è molta più... Esatto, di seguire i nostri atleti anche nell'ambito extrasportivo per determinati tipi di atleti. Vorremmo creare un programma, lo stiamo cercando di costruire anche con il Volta, perché abbiamo un paio di nostri atleti che lavorano, che studiano al Volta. Stiamo cercando di costruire un percorso di studio che sia anche mirato a riuscire a seguire quelle che sono le esigenze di un atleta che fa agonismo ad alto e altissimo livello. Sì, sì, che sia comunque qualificante dal punto di vista dello studio, no? Vorremmo riuscire a intervenire come associazione anche in questo senso. È molto interessante. Ha detto prima della capacità di fiorettista, della vergente e anche del grande livello che c'era in Italia, che c'è attualmente in quel tipo di disciplina. Visto che buona parte delle persone, me compreso, se ne occupa ogni quattro anni quando si siede sul divano d'estate e vede le diverse discipline. Però ci spiega rapidamente le differenze, così le sanciamo una volta per tutte. Esatto, sono tre le discipline, spada, fioretto e sciabola. All'ASU si praticano fondamentalmente, anzi, solo spada e fioretto. Ok. Nel fioretto e nella spada si tocca di punta, si dice, cioè solo con la punta. E sono tutte e tre le armi elettrificate. E la differenza sta un po' nel bersaglio. Sì. Ovvero, la spada consente di poter colpire l'avversario in tutte le parti del corpo, compresa la maschera, i piedi, il guanto, le braccia e tutto quanto. E quella è la dimensione un po' più antica. Sì, è una dimensione forse anche più intuitiva nel seguirla, perché è un'arma in cui chi tocca prima vince. Sì. Mentre le altre due armi... Un po' più d'artista, diciamo. Sì, sono armi proprio diverse. Istintivo, no? Esatto, molto istintivo. Mentre le altre due si dice che sono armi di convenzione, ovvero che non è detto che chi tocca prima vince, ma ci sono delle vere e proprie convenzioni per le quali se uno attacca e tocca, allora fa il punto. Oppure se uno pare e risponde, fa il punto lui, anche se arrivano insieme. Mentre poi c'è anche la sciabola, in cui si può toccare anche con la lama, ed è un po' diversa. E il bersaglio del fioretto è praticamente solo il busto, escluso la maschera, le gambe e le braccia. Mentre per la sciabola, dal busto in su, comprese le braccia e la maschera. Sì, certo, chiarissimo. Differenze finalmente, una volta per tutte, una volta per te stabilite. Quello che voi vedete dietro di noi è la spada, che in questo caso erano i campionati italiani. Questo è questo tipo di disciplina. Andiamo sugli atleti. Abbiamo cercato di capire se i ragazzotti o ragazzi udinesi sono validi. Adesso riusciamo a vedere se c'è qualche nome, qualche prospetto. Magari fra un 7-8 anni vediamo qualcuno. Non mi ricordo dove saranno le Olimpiadi fra 8 anni. Fra 8 anni, Giappone, i primi 4 anni. No, non è stato ancora stabilito. Non è stato ancora deciso, esatto. E quindi vediamo un po'. In questo particolare periodo noi stiamo lavorando un po' sul gruppo under 14 e under 20 per una sorta di ricambio che avviene in tutte le associazioni, in tutte le sezioni. L'altro ieri è stata premiata a Anais Gon come una delle migliori sportive giovani di Udine dall'assessore Basana, allo sport Basana. Lei ha una buona prospettiva, è arrivata quinta alla prima prova under 20 di spada, pur essendo lei sedicenne di fatto, quindi diciamo che è una buona prospettiva e sta lavorando e sta crescendo bene nel nostro vivaio. Dopodiché c'è un'altra ragazzina ancora più giovane, Elisa Perrone, nel Fioretto, che si è classificata al terzo posto della prima prova del campionato nazionale della sua categoria. Com'è la questione ai tecnici invece? Immagino sia abbastanza delicata, perché dopo tanti ragazzi si spostano a seconda del maestro, dipende chi c'è, chi non c'è. Non è come negli sport di squadra, e credo anche a livello di abbondanza di tecnici. Se tuoi un allenatore di calcio, più o meno bravo lo trovi più o meno dappertutto. Invece per quello che riguarda sport del genere è un po' più complesso. È un po' più complesso e anche nelle altre due discipline dell'Associazione Sportiva di Inese. Sono sport fortemente tecnici in cui appunto al gioco di parole i tecnici sono fondamentali. Sì, sì, la differenza che fa l'allenatore è decisiva. È fondamentale, sì. Quindi la tradizione dell'Associazione Sportiva di Inese è sempre stata quella di cercare di costruire al suo interno i tecnici per poi farli crescere nel tempo e poter ottenere anche dei risultati. Sia evidentemente anche per questioni di carattere economico. Per forza. Per questi sport i tecnici preparati non sono molti e poi con una sorta di globalizzazione del mondo sportivo molti dei nostri tecnici italiani, soprattutto che vengono riconosciuti in tutto il mondo come fra i più bravi. Sì, essendo l'Italia una scuola pazzesca a livello di schermo. Si parlava del judo prima. Sì. Ma anche pallavolo, no? Grande tradizione di pallavolo. I tecnici vengono chiamati in tutto il mondo. Per arrivare pure in calcio. Rendono forti le altre nazionali. Sì, calcio ne stiamo neanche a parlarne, no? No, quindi i nostri migliori tecnici di fatto del Fioretto sono stati tutti esportati all'estero e quindi la nostra... Abbiamo Stefano Cerioni che è andato in Russia, a Cina. Stefano Cerioni era commissario tecnico della Russia. Adesso non si sa bene, ma comunque Andrea Magro che è stato maestro dell'ASU lavora per la nazionale tedesca, ma poi ce ne sono in Cina, in Australia, ormai sono in tutto il mondo, soprattutto nel Fioretto, ma anche nella Spada in questo momento. Poeti, santi, navigatori e maestri di schermo, no? Maestri di schermo, sì, sì. Certo, è un danno un po' per le associazioni, per le società sportive italiane che devono ricostruire ogni volta un gruppo di tecnici, cosa che noi stiamo cercando faticosamente di fare da un po' d'anni. Abbiamo una serie di prospettive anche lì abbastanza interessanti sulle quali però un'associazione deve pensare di investire dai 4 agli 8 ai 12 anni perché possa poi ottenere dei risultati anche come tecnici. E anche a livello economico, visto che abbiamo detto che i tecnici costano, mettendo che il tecnico, diciamo, non ci spendi più di tanto per il resto è impegnativo comunque gestire una società sportiva, anche perché devi mandare la gente non a Mortegliano, insomma, con tutto il rispetto, o a Codroi può far le gare, ma devono andare in giro per l'Italia. Va ammesso anche che per questi sport i sacrifici della famiglia che decide di supportare il proprio figlio o la propria figlia in questo percorso, in questi sport, è disposta anche a fare dei sacrifici che dopo... che vengono riconosciuti solo nel momento in cui evidentemente uno arriva a grossi palcoscenici, perché se no è solo la passione che ti muove, come diceva Stefano prima, che ti muove verso la pratica di questi sport e anche poi a seguire il proprio figlio in un'attività agonistica che è comunque dispendiosa. Sì, sì, certo, che ti fa accettare sacrifici economici, come quelli a cui faceva riferimento. Che noi cerchiamo di supportare anche le famiglie, magari con un occhio di attenzione a quelle che meno possono, però purtroppo è anche vero che uno sforzo da parte della famiglia c'è sempre. Per forza. Ho letto sul programma, dopo magari lo analizzeremo e vedremo un po' le cose più importanti, più significative, però mi aveva colpito l'esibizione o le gare di sport integrato. No, non è una vera e propria esibizione, perché noi l'anno scorso abbiamo fatto questo esperimento. È da tre anni che stiamo lavorando con un'associazione che si occupa di disabilità intellettiva, oltre lo sport, e abbiamo costruito un percorso che porta quest'anno a organizzare una piccola gara, anche lì un po' agonistica, a staffetta, che prevede che ogni squadra sia composta da un atleta disabile intellettivo e un atleta, diciamo, normodottato dei nostri ragazzi dell'associazione. Abbiamo pensato di organizzare questa cosa perché abbiamo visto che c'è stata in questi tre anni una bella risposta da parte dei disabili intellettivi che hanno potuto seguire un percorso anche tecnico di crescita e che li ha portati a poter effettivamente fare una gara con tutti i crismi di una gara agonistica. Questo a noi è piaciuto inserirlo nell'ambito di una gara di giovanile, così come il torneo Alpe Adria è quest'anno. E ha avuto buoni riscontri per aver capito. Sì, sì, speriamo che sia anche che funzioni da un punto di vista anche agonistico, no? Sì, sì, sì. Ma soprattutto che i ragazzi si divertano cosa che noi possiamo constatare. Il principio, diciamo, basilare per un po' tutti gli sport tutti i partecipanti, no? Ma per tutti gli sportivi che si approcciano a questo tipo di attività. Ecco, Presidente, se uno avesse visto la puntata e dicesse ma vado a vedere come funziona sta scherma, no? Quando viene cosa può vedere a che cosa non deve mancare partendo dal presupposto che ovviamente l'organizzazione dirà è tutto importante però ci sarà qualche momento un po' più significativo, no? Appunto, le gare si sviluppano nei tre giorni. Chi fosse interessato a vedere il fioretto verrà effettuato il sabato. La spada invece è la domenica. Le categorie sono tutte suddivise tra maschile e femminile. in alcune categorie fortemente giovanili anche si decide di mettere insieme maschi e femmine in modo che possano fare delle gare anche un po' più numerose in modo da divertirsi di fatto anche di più. Sì, sì, sono un po' più piccolini con fisici analoghi. Chi poi cresce ai 12, 13, 14 anni quindi diciamo nella tarda pomeriggio si possono vedere delle gare un po' più tecniche perché chiaramente gli atleti crescono e crescono anche le loro qualità tecniche. Benissimo, Presidente. Grazie di averci di essere stato ancora una volta nostro ospite sempre gradito. Aspettiamo il prossimo torneo magari, forse quello di ginnastica esatto, ginnastica artistica così ci vediamo per parlare insomma di alterniamo un po' gli argomenti. Ginnastica, a schermo comunque è sempre un piacere. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito in questa nostra puntata di Viceversa appuntamento domani sera sempre alla stessa ora per l'ultima puntata della settimana. Buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.